Manila Nazzaro ha trovato un misterioso foglio al grande fratello VIP. L'ex Miss Italia lo ha letto attentamente soffermandosi su alcuni passaggi evidenziati pure da Davide Silvestri. Decisamente incredulo al suo fianco. Però aspetta, lui è stato cacciato dopo, afferma Manila, ma non sappiamo a cosa si riferisca in dettaglio. L'unico concorrente cacciato dal grande fratello VIP è stato Alex Belli, squalificato dopo aver infranto il regolamento avvicinandosi a Delia Duran. Manila è stata chiamata in magazzino, la regia ha staccato subito l'audio. Successivamente è stata chiamata poi in confessionale per portare il foglio alla produzione. E infatti, una volta uscita, non lo aveva più. Cosa c'era scritto? Secondo voi cosa potrebbe essere? Una lettera di Alex Belli oppure qualche altra cosa importante per i vipponi? Sta di fatto che la regia non l'ha presa benissimo e quando ha richiamato Manila non l'ha fatto in modo tranquillo.